Allora, signori e signori, buonasera a tutti. Abbiamo due notizie. La prima è che dopo tanta bella musica, tanto bell'impegno, professionisti su questo palco, arriva la cuota ignorante, che è rappresentata da noi, ma anche la cuota elegante, fatecelo dire. Allora, potete notare, abbiamo dei capi vintage. Una parola, buonasera. Seconda cosa, seconda notizia, ci siamo arrivati in coro dalle palle, perché è dalle nuove che suona. Dico, tutto bene, però, ero di baglione. Allora, visto che sei stato sul palco a suonare qui adesso, noi rinigliamo questo pezzo che ci ha chiesto Cristina di farti, perché sappiamo che ti piace molto. Lo vedi, è tutto tuo. E one, e two, e one, two, three, four! Allora, Allora, io sono te, le c'erano che non ce ne sono te, non credo che la cira lei. E sul show, tutto quello che vuoi, ma non è il capace che staschia, ma dove sta a remare, perfetto meglio, se ha capito uno po' di tocca con me, E addio, mi risponde dopo un breve caffè da Mr. Fan, Cardoto Jets. Dov'è che cosa? Non di più è una doppia personalità, di giro in ufficio alla notte di bar, una giacra che scelte se ne è notato. Non di più è una doppia personalità, di giro in 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 giro. Non di più è una doppia personalità, di giro in 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 giro. Non di più è una doppia personalità, di giro in 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 giro. Non di più è una doppia personalità, di giro in 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 giro. Non di più è una doppia personalità, di giro in 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 E grazie! E' tutto bene con suo. Ladies and gentlemen, direttamente fra Canaletta Segnano, la carciazza del 2019 della gruppa Sperma, Christiane! Boppa su ste luci! Boppa a ste luci che deve brillare! Allora ragazzi, abbiamo una bella ospitata questa sera, tanto per cominciare subito, no? Vero? Assolutamente sì! Abbiamo il piacere di avere qui con noi, Kevin e Giulia. Who are you? Ma quali corista? Abbiamo delle cantanti! Abbiamo delle cantanti! Non vorrei che sofferti, non lo sai! Vabbè! Vi ha... Vabbè! Vabbè! Vabbè, abbiamo dei cantanti! Vabbè, d'accordo! Vabbè! Vabbè, non ci buongiorno, ci sono delle cantanti! E' un po' che è! Grazie. 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 Allora, non è una telecorrista, eh? Stai qua, Kevin. Non scappare. Ci faccio subito a te. Grazie. 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 Io camminavo nelle notte, oramai non dormo più. Quando ho incontrato una ragazza che era sola come me. Aveva il bisogno di un bambino, aveva tu cosa perché? Perché? Aveva gli occhi dell'amore, venti, come due raggi per l'amore, grandi, aveva gli occhi dell'amore, venti, mi innamorai di lei, lei di me. E poi? Abbiamo girato per le strade come robine lute, abbiamo vissuto mille anni nello spazio ove. Quando mattino ci ha segnati, senza parlare, l'ho baciata. Aveva gli occhi dell'amore, venti, aveva gli occhi dell'amore, venti, mi innamorai di lei. Aveva gli occhi dell'amore, venti, mi innamorai di lei. Aveva gli occhi dell'amore, venti, innamorai di lei. Grazie a tutti 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 Abbiamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti